La domanda fondamentale che spero sempre che il pubblico si ponga davanti alle mie opere è ma che cosa sto guardando? Diciamo che sono sostanzialmente una sorta di investigatore della fantascienza. Sono disperatamente alla ricerca della possibilità di capire come sarà fatta la forma della nostra vita nei prossimi 20, 30, 40 anni. Non si può parlare ai nuovi pubblici e ai nuovi artisti usando dei codici che erano pertinenti all'arte degli anni 60, 70, 80, 90, 2000. Bisogna capire che gli apparati e dispositivi culturali cambiano molto più rapidamente dei contenuti, della forma dell'opera. Finché il progetto non parte, finché la parte di ricerca non è terminata io non so che forma prenderà il progetto. Non so se il progetto sarà un'installazione, un libro, una mappa, un nucleo di fotografie, un film. La forma è una cosa che si plasma quando l'idea si è chiarita. Non esiste nessuna forma di oggettività nel mio lavoro. Tutta la narrazione viene piegata all'esigenza finale. Io sono terrorizzato dal non capire come sta cambiando la lingua. Che cosa stanno guardando? Che cosa stanno leggendo? Attraverso quali dispositivi dialogano i ventenni? Chiunque oggi si avvicina all'arte, sia come spettatore, sia come pubblico, ha molto chiaro che l'arte è una scatola di giocattoli dalla quale ciascuno prende ciò che gli piace. Chiunque oggi si avvicina all'arte, sia come pubblico,